Chi vorrebbe una Francia senza Louvre? O una Russia senza remitage? Ho visto da Louvre. Ah, da Louvre li sta. Signor Georgiard, lei è il primo alto funzionario francese che vedo al suo posto. Parla tedesco? No, sono molto francese. Anche la più felice delle città non è riparo da un disastro. Chi sarei stato? Se non avessi potuto vedere gli occhi di coloro che vissero prima di me. Ma forse tutto questo non è mai successo. Non sappiamo ancora che ruolo avrà precisamente Luke Skywalker nell'episodio VII di Star Wars, però Mark Hamill ha confermato la sua presenza nell'episodio VIII, che vedrà nel cast Benicio Del Toro in veste di Villain e presumibilmente il ritorno dei tre protagonisti del Risveglio della Forza, cioè John Boyega, Daisy Ridley e Oscar Isaac. Cliccate qui accanto per rimanere con me. Al prossimo video. Che la forza sia con voi.